Un guasto meccanico, un improvviso ostacolo da evitare, un momento di distrazione. Sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato una Peugeot 207 Cabrio domenica a sbandare in una via di Sant'Arcangelo di Romagna nelle Riminese e a schiantarsi contro un veicolo in sosta. Era da poco passata l'ora di pranzo in via De Gasperi, in un quartiere residenziale a ridosso della stazione, quando l'auto ha due posti con a bordo un uomo e una donna è improvvisamente uscita dalla careggiata per centrare in pieno una delle automobili parcheggiate a spina di pesce di fronte ai condomini. L'impatto è stato talmente violento che il fianco destro della Peugeot si è infilato sotto la Ford Focus colpita, sollevandola. Per questo, a riportare le ferite più gravi è stata la donna, seduta sul lato passeggero, quello dell'impatto. Per liberare la donna dalle lamiere è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Data la gravità delle sue condizioni, la ferite è stata trasportata con la massima urgenza al Bufalini di Cesena tramite eliambulanza. Ferite meno gravi per il guidatore che è stato invece accompagnato in ambulanza all'infermi di Rimini.